Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi siamo molto ma molto felici di questo bellissimo traguardo ragazzi Perché a 50 iscritti faremo la torta, non lo so, non lo sappiamo Però una notizia importantissima Siamo arrivati a 40 iscritti ragazzi Grazie mille per questo supporto Manca uno e arriviamo al punteggio di Giuseppe La Rosa Di un channel Allora ragazzi, fa freddissimo Stamattina perché era un freddo da non dire Adesso pure sta freddo Però grazie per questo traguardo Perché siamo molto, siamo super felici E lo stiamo facendo il giorno in cui gioca la Juventus Con la Salernitana stasera alle 20.45 Su Dason ragazzi possiamo vincere con questa squadra di Serie B Non facciamo come con l'Empoli che perdiamo Chi essa non gioca si è infortunato E fino al 2022, fino all'inizio di gennaio non gioca Quindi dobbiamo stare attenti in Champions pure E anche in campionato Con le squadre che affronteremo Continuo il speciale 40 iscritti ragazzi Dobbiamo arrivare Se andiamo, se vi iscrivete, se si iscrivono due Superiamo Giuseppe La Rosa TV Channel Ragazzi, per favore Perché è da un sacco che lottiamo Eravamo fermi a 36 iscritti E mancavano sempre quattro Adesso è proprio preciso Ieri erano 38, adesso sono 40 Grazie, 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 grazie mille E guardate che faccio Prendo questa e la sventolo Per i campioni d'Europa I campioni d'Europa ragazzi Lui stavo guardando Anna e Lion Grazie Ogni speciale Non so cosa dire Grazie Prima di tutto E se vuoi dire qualcosa a Giuseppe Ma lui non se ne frega niente Perché anche se fa video Se da uno youtuber Non se ne frega niente Perché io Devo caricarli Devo pubblicarli Devo fare sempre io i video Di questo genere Perché quando Allora Scusate Che nel video di Brostarse La seconda parte Non ho abbassato il volume Scusate ragazzi La prossima volta Mi ricordo E lo abbasso Quindi scusate Scusatemi ragazzi Lo so che lo faccio spesso Però Adesso Questa volta Forse non lo farò più E se Giuseppe vuole dire qualcosa Ragazzi Lui non vuole salutare Vieni a vedere Quello che stai facendo vedere Che stai vedendo Vieni a farglielo vedere Vieni Vabbè Ragazzi Quello che stai vedendo Ma perché non può Non vuole dire qualcosa No io non lo so Vabbè Io Lo chiudo se no Adesso lo chiudo Ragazzi Lui non vuole dire niente Eh Non so perché Però Non so che dire Grazie Eh Prego Eh Vogliamo Adesso mancano Dieci iscritti E arriviamo a 50 50 Faremo uno speciale bellissimo A 50 iscritti Perché abbiamo Quando arriviamo A 50 iscritti Mancheranno 50 Per arrivare A 100 iscritti Ragazzi 100 iscritti Scusate Scusate È caduto il telefono Ma ragazzi Tra Tra 60 Iscritti Arriveremo A 100 100 È Sarà uno speciale Bellissimo Quando arriveremo A 100 iscritti Uno speciale Straordinario E questo è il primo video Che supero i 5 minuti Perché siamo a 6 minuti E adesso chiudo Da Mario e Giuseppe TV Che non sta partecipando Out Ciao ragazzi Grazie mille Per i 40 iscritti Ciao Iscrivetevi Perché voglio arrivare A 50 iscritti Vogliamo arrivare A 50 iscritti Ciao